Nel campionato di promozione Gironia la MKE dilaga su un soverato d'avoli pieno di problemi di formazione. Semplice il compito dei catanzaresi allenati da Rosati che chiudono la pratica agevolmente. Romito al decimo minuto e Sulla al trentanovesimo incanalano la sfida nel primo tempo. Ci pensa poi Ferrara nella ripresa di testa su assist da calcio piazzato al ventesimo a portare a tre le reti dei padroni di casa. Entra tra i biancorossi l'allenatore giocatore Marco Pisano che fa coppia con l'altro over. Brutto ma non basta fare forza d'urto. La maggiore velocità dei locali prevale e la squadra di Rosati aumenta il divario ancora con Sulla che trasforma un penalty da lui stesso guadagnato. E la quarta è definitiva a rete. Vittoria preziosa per la formazione del presidente Minieri che riscatta la brutta caduta di domenica con il Bruzium. Ancora solo guai per il soverato d'avoli attanagliato dai numerevoli problemi di formazione. E' relegato in zona retrocessione. Il tecnico Pisano fa quello che può con la rosa attualmente a disposizione. Piena zeppa di under che devono giocare due gare alla settimana. L'allenatore aspetta rinforzi in settimana per poter far partire finalmente un nuovo campionato per i biancorossi. Grazie.